Con il vice sindaco Luca Gresti oggi una presentazione di quello che sarà un evento davvero straordinario perché grazie alla Onlus tutto è possibile si ritornerà nuovamente a camminare in quello che sarà anche una competizione a scopo benefico. Sì, questo è uno degli eventi che rende grande questa terra, la rende grande perché è una terra ricca di attenzione nei confronti del sociale e anche in questo caso il 15 di settembre ci sarà una manifestazione sportiva che però ha come obiettivo quello di tenere alta l'attenzione su una nuova tecnologia quella dei robot, degli isoscheletri che danno la possibilità a chi ha problemi di disabilità motore di poter tornare a camminare. Quindi un'opportunità per far crescere la qualità della vita. Parte a Grosseto questa sfida, lo parte grazie alla collaborazione di tante associazioni di volontariato attraverso l'impegno dell'amministrazione comunale di Grosseto, quello della ASL quindi c'è una rete concreta, forte, seria che ha come obiettivo quello di aiutare le persone più sfortunate di rendere la qualità della loro vita migliore. Siamo con Enrico Desiderio, direttore dell'azienda sanitaria Toscana Sud-Est per parlare di un incentivo a riprendersi la vita che magari ha subito quello che è stato uno stop momentaneo grazie ai supporti che riguardano la robotica e riguardano la tecnologia, la scienza e la scienza medica. La scienza finora non ha saputo porre rimedi a queste cose e da qui, proprio da Grosseto, può nascere un nuovo approccio sia riabilitativo lo voglio sottolineare che questa cosa non è solo una cosa che fa camminare non è solo un presidio innovativo, robotico, un esoscalito che permette di camminare e fare le scale questi ragazzi sono venuti facendo le scale ma insomma permette anche di costringere il paziente a riabilitarsi ecco da qui, proprio da questa città, da questa comunità piena di volontari e di persone generose vogliamo dimostrare l'efficacia della cosa e poi intervenire a livello nazionale dove c'è, devo dire, ora una commissione che aggiorna continuamente i livelli essenziali di assistenza prima era una roba che ci voleva una legge ora da un anno, devo dire, c'è una commissione che è in grado di aggiornare sono tecnologie molto molto facili e naturalmente se entrassero nell'uso comune evolverebbero ulteriormente l'informatica non si ferma mai e quindi insomma in questo campo abbiamo grandi grandi aspettative Tutto è davvero possibile anche perché Rewalk parte da Grosseto? Certo, allora io mi chiamo Gabriele Lattanzi, sono consigliere della Ollus Tutto Possibile mio babbo Massimo Lattanzi che è presidente e Luisella vicepresidente Su questo io sono nell'ososcheletro Rewalk che do una dimostrazione in tutta provincia di Grosseto Grosseto, Toscana, che chi è autosufficiente, i disabili devono provare, come dire, come io mi intendo volere potere, di andare avanti e migliorare sempre di più il tuo stesso corpo Suicina è un progetto che è pensato appunto per tutti coloro che avranno i requisiti fisici saranno valutati e soprattutto chi avrà i requisiti e vorrà mettersi in gioco farà il programma di preparazione, il training e poi daremo gratuitamente l'ausilio in base poi alla domanda che ci sarà, vediamo se darlo per un mese, due mesi, tre mesi ogni volta se lo portano a casa e se lo utilizzano nella vita quotidiana Grazie, grazie Che poi la sensazione è ganza, che è una strullezza che io sono più alto e vedo tutti i carrozzini più alti di me, no? Come ho fatto alla vicepresidente una battuta Oddio quanto sei bassa